Ci stiamo chiedendo, visto che l'abbiamo tanto pubblicizzata nel momento in cui era tutta sistemata, rifiorita, un importante sito nel verde da pubblicizzare per l'Isola d'Ischia, adesso purtroppo è in uno stato di abbandono e quindi col professore Sollino che è stato uno dei promotori di pubblicizzare questa pineta stupenda per la macchia mediterranea, per le risorse idriche e per tutto ciò che riguarda il patrimonio della nostra isola, ci chiederemo a che punto è che fine ha fatto perché purtroppo sappiamo che in questo momento è in uno stato di abbandono, è in questo sito che noi schitane ci poniamo per vedere se possiamo dare un input all'amministrazione, a chi per esso per riprendere questo luogo bellissimo che fa parte del patrimonio culturale della nostra isola.